Ci troviamo nel tesoro della cattedrale, questa è una delle due sale dedicate a Papa Lambertini, Benedetto XIV, siamo alla metà del Settecento con gli arredi che sono qui presenti, ma torniamo indietro di più di quattro secoli invece con questo corale che si trova qui alla mia sinistra. Si tratta di uno degli antichi libri corali della cattedrale, uno dei più antichi, siamo nel 1300. Questi grandi libri di dimensione monumentale erano presenti nelle chiese cattedrali, nei monasteri, nelle chiese conventuali per la celebrazione dell'ufficio divino. In quell'epoca era molto difficile avere i libri liturgici, soprattutto con i testi per il canto gregoriano. Allora si disponeva al centro del presbiterio un grande leggio e uno dei canonici minori girava volta per volta la pagina mentre i canonici cantori eseguivano le parti loro assegnate dall'ufficio divino. L'archivio della cattedrale di Bologna custodisce numerosi di questi antichi e preziosissimi corali, tra poco ne vedremo un altro di un'epoca un po' più recente. Per la prima volta due di questi libri corali saranno visibili dal pubblico che domenica pomeriggio vorrà venire qui in cattedrale dalle 15.30 alle 17.30 di questa domenica. Il tesoro della cattedrale sarà aperto come ogni domenica ma in questa domenica in particolare avremo una sorpresa. Saranno esposti due libri corali e ci sarà anche il coro gregoriano che direttamente da questi antichi codici eseguirà alcuni brani dunque di questi antichissimi repertori. Qui davanti a me la prima pagina di questo corale del 1300, il proprio dei Santi, si tratta della festa della conversione di San Paolo. Si tratta di pergamene, dunque si tratta di fibre animali, di pelle di animali, poteva essere di pecora, di capra o di vitello che venivano depilate, poi venivano conciate in questo modo così teso che li rendeva poi abili alla scrittura. Erano estremamente costosi ed evidentemente non esistendo la stampa erano interamente scritti a mano. Questo è l'inizio della festa di San Pietro, vediamo questa splendida miniatura dorata, un capolettera con l'Apostolo Pietro in trono, lo contraddistingue dalle chiavi. Notate anche i bordi delle pagine che risentono molto dell'usura del tempo. Pensate che questi libri corali sono stati utilizzati ininterrottamente fino al XIX secolo, quindi fino a tutto il 1800. Degli aggiornamenti che venivano fatti mano a mano, che si canonizzavano dei nuovi Santi. Qui abbiamo San Girolamo Emiliani. Questo è il Corale N, un'acquisizione successiva, siamo già nel 1600, dunque anche le tecniche di scrittura e di decorazione erano molto cambiate. Si tratta di un antifonale, cioè di un libro corale che raccoglie le antifone dei giorni comuni della settimana. Guardate lo splendore di questa raffigurazione. La Vergine Maria nella gloria insieme agli Apostoli Pietro e Paolo sotto i padri della Chiesa occidentale è il re Davide che con la sua cetra è il grande protettore di coloro che pregano il culto divino. Si trova anche lo stemma del capitolo della cattedrale, la croce con le chiavi di San Pietro pendenti. Questo è il Comune degli Apostoli e qui le pagine sono già molto più ricche nella decorazione. Le antifone del Comune dei Santi, quindi questo libro veniva utilizzato abbastanza spesso e qui invece siamo ai giorni della settimana. questa è la domenica all'ora terza, è l'ufficio delle nove del mattino.